Sta facendo discutere a Castione della Presolana la possibilità che venga installata un'antenna per la telefonia mobile. Com'è la situazione? La situazione è molto semplice in questo senso. Delle discussioni ho letto anch'io sia sui giornali sia sui social i dibattiti pro e contro. La problematica dell'antenna nasce da un problema vero degli ultimi anni, cioè il fatto che durante i periodi di maggior afflusso non c'è connessione né a Bratto né ad Orga né a Castione. Ho protestato io più volte spinto da tanta gente, sono migliaia di persone che hanno segnalato alle loro compagnie che non funziona internet da noi. Sia io ho protestato presso la Gcom che è l'agenzia che si occupa di telecomunicazione perché venisse risolto il problema di connessione a Castione che limita lo smart working, limita le comunicazioni eccetera. Le compagnie, ho torto collo, hanno risposto con l'unica cosa che possono fare, cioè aumentare i ripetitori. Un ripetitore è stato messo un anno e mezzo fa circa a Castione, per cui Castione tutto sommato viaggia abbastanza bene. Bratto e d'Orga no, non viaggiano bene, per cui le società telefoniche prevedono altri ripetitori, che sono circa 4-5 nuovi ripetitori. Hanno mandato appunto una proposta di installare l'antenna in via Bucaneve a D'Orga, che è una zona periferica di D'Orga, residenziale, e altre ne manderanno. Ovviamente sarà compito poi del Comune valutare se concedere o meno l'area. Sarà compito non del Comune, ma dell'ARP e dell'ATS di valutare se c'è pericolo per la salute, ma ricordo che sui tetti di Milano ci sono le antenne, ma sarà un compito loro. Se il Comune non dovesse concedere l'area, le società si rivolgeranno ai privati, che ovviamente le concederanno, per cui ne più ne meno se il problema c'è, il problema va risolto. Questo è il fatto reale. Poi sul resto ovviamente dovremo fare le nostre considerazioni, dovremo valutare.